Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi nuovo video a reali a street fishing quest'oggi particolarmente pescherò in verticale dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, like, like e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per altri video del genere superiamo gli 80 like e direi di non perdere altro tempo e via con il video iscriviti al canale iscriviti al canale e uno vai oh tira! bello! bello si! guardate che bel pesce! è un 30 centimetri! guardate che bello! l'optica preso! bello! bello raga! guardate che pesce! un altro 30! che bello! 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 mettila qua! va bene! ok! preso! ho mangiato! mi stava portando via l'esca! via! via! preso! bomba! reale! la vibe! 9 grammi! preso! e con l'hova! un altro! e con l'hova! ok! si! poteva farsi prendere! si! e con l'hova! ok! oh! preso! vedete rame! eccolo qua! un danno realino! preso! ho preso! ho proprio sotto i piedi! boom! baby! vedete che fosse il sole sarebbe stato pure a vista! ho preso un altro! oh! si è già mollato! ho preso! ho preso eccolo qua anche se l'ho rilasciato ottimo 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 ok due secondi dopo non so cosa abbiate visto di questo pesce ma come l'altro via afferrata ovviamente preso bello ah no era preso male ecco un'altra questa è ancora più piccolina sono già a 7 voi non li avete visti tutti però fortunatamente ecco qua vai grazie a tutti Grazie per la visione!